Il nostro mondo. Siamo nati per camminare in questo mondo, dove la vita brulica e nulla si ferma mai un secondo. Avvengono continuamente dei cambiamenti, alcuni speciali, altri inspiegabili e sconvolgenti. Questo mondo che ci ospita non riesce proprio a stare fermo. Compie infiniti giri nell'universo. Camminando si possono sentire milioni di suoni e per ogni passo che si compie rimanere incantati dagli innumerevoli colori. Siamo perennemente osservati dalla luna e dal sole, splendide stelle che non conoscono le ore. Nulla di quello che esiste ci appartiene. Siamo di passaggio e, alla fine, nulla possiamo tenere.